Fare della presenza sul territorio da almeno dieci anni una condizione esclusiva per accedere ai bandi di assegnazione degli alloggi di delizia popolare è il cardine principale dell'atto di modifica della legge regionale che il capogruppo Lega Nord Umbria Emanuele Fiorini porterà lunedì prossimo 17 ottobre 2016 in sede di Consiglio regionale. Le modifiche apportate riguardano anche la possibilità di partecipare ai bandi per coniugi separati, escludere dai bandi chi possiede proprietà immobiliari in altri paesi e assegna la possibilità ai comuni di prevedere punteggi sulla base della continuata residenza nel comune stesso.